Poi passerei alla Star Comics, anche qui sono usciti diversi volumi, partirei da Mac and Joy, una mangaka, cioè parlo di Happy Marriage, il volume numero 6, edito proprio dalla Star Comics al prezzo di 4,30€. Anche questo è stato un volume veramente stupendo, i nostri protagonisti anche in questo caso stanno avvicinando sempre di più e la nostra protagonista cerca in tutti i modi di aiutare il suo marito nel risolvere i problemi con la sua famiglia, anche causando però dei problemi tra lei e lui, perché lui non vorrebbe che si intromettesse nei suoi affari personali, ma lei essendo sua moglie si sente quasi come tradita dal fatto che lui non voglia che lei li stia vicino nei momenti più difficili e che l'aiuti a superare le difficoltà. Arrivano i primi problemi sempre per questa coppia, sempre molto indaffarata e problematica, però apprezzo molto le scene molto divertenti che ci sono anche qui all'interno. Poi i disegni sono veramente qualcosa di stupendo. Poi passerei sempre, edito sempre della Star Comics, ho preso il volume numero 11 di Wolf Girl e Black Prince, sempre edito della Star Comics al prezzo di 4,30€. Anche questo è stato un volume veramente stupendo, Wolf Girl e Black Prince è veramente un manga veramente stupendo, ho apprezzato molto anche l'anime, che però si sono fermati con la prima serie. Quello però che non mi è piaciuto in fondo è che quando sono andata a leggere, quando continua, me lo sono ritrovato continua a gennaio. Quindi ci sarà da aspettare un po' per riavere il volume numero 12, penso che siano in pari col Giappone per questo motivo. Hanno interrotto un po' il manga, hanno, diciamo, rallentato la produzione. E quindi questa era Wolf Girl e Black Prince, il numero 11. Poi sempre, della Star Comics, ho preso il volume numero 4 della Collina dei Pesci Rossi. Questo volume è stato veramente stupendo, e siamo già al volume numero 4, ed è questa storia fantastica di questa ragazza alla ricerca dei propri ricordi, che fa il lavoro dell'aiutatrice e si fa scrivere su un billettino di carta colorato, che ha completato il suo compito, lei ci farà poi dei bellissimi origami. Questi qua, in forma di gru, cosa di veramente particolare. E poi quel che apprezzo perché è dotato di una sopracopertina con all'interno una pagina a colori, a ogni volume. Una diversa dall'altra, o in ogni volume, che è veramente qualcosa di unico. Kone può controllare i ricordi di Nishiki, e conosce il suo segreto risalente a 7 anni prima. Diciso a scoprire quale sia la vera natura del giovane antropologo, Soma si trova d'altro canto a competere intenzialmente con Wakaba. L'ignore di tutto, tra una vita e un mercatino di libri usati e una festa di Natale, a ogni nuovo incontro Nishiki è sempre più attratta da Kone, ma il suo cuore vacila quando entra in scena una donna misteriosa che sembra sapere qualcosa sul passato di ragazzo. E quindi vedremo in questo bellissimo, dolcissimo e bellissimo volume che cosa succederà. Faccio vedere alcuni dei disegni. I disegni sono veramente particolari. Poi apprezzo molto l'aggiorcezza del suo amico d'infanzia, che cerca in tutti i modi di proteggere la nostra protagonista, che è Nishiki, che è questa ragazza qui. E quindi questo è edito della Star Comics a prezzo di 4,90€. Poi per la Star Comics ho preso, questi su internet e online, ho preso il volume numero 2, numero 3, il 6, 7 e l'8 ce l'avevo già, il 9, 10, l'11, 12, il 13, 14 e il 15. Il 22 l'ho preso in fumetteria. E The Pandora Earths mi sto mettendo un po' in pari perché mi piacerebbe tanto completarla questa collezione. e vi faccio vedere il penultimo volume. Il 23 l'ho visto dovrebbe uscire a dicembre 2015, a regola. E quindi questo è edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90€. Sembra che questo venisse un po' di più rispetto a quelli normali. Infatti 4,30€. Ho visto forse sono diventati più mallopponi, forse la grandezza delle pagine ha aumentato un po' i volumi, e un po' il prezzo dei volumi. Penultimo volume della Star Comics, ho preso Ino per Boko Sitica Service, un manga che mi ha lasciato con l'amare un bocca in fondo, perché non è che ho capito benissimo cosa succede. Diciamo che un prologo, infatti c'è scritto, come potete vedere, prologo, fine prima parte. E diciamo che il finale, poi lo vedrete anche voi chi la legge, mi ha lasciato veramente... boh, che cosa è successo? Ho apprezzato molto quel che è successo, infatti sono rimasta molto male riguardo al finale, e spero che non finisca in questa maniera, perché penso che sia il potere della nostra protagonista che riesce a vedere nel futuro, da quel che ho capito. E quindi vedremo poi, a settembre, che cosa succederà, quindi inizierà praticamente la storia, se questo era il prologo, in quattro volumi hanno fatto un prologo, e quindi col quinto penso inizierà la vera storia, quindi forse ci capirò un po' di più. E i disegni sono, come al solito, veramente stupendi, cosa di veramente unico. E poi ho apprezzato molto il rapporto molto forte che lega anche in questo caso i nostri due amici di infante, i nostri due padrone e servo. E poi vedremo che cosa succederà alla fine. Se qualcuno di voi l'ha letto e ha capito all'incirca cosa è successo, mi lasci pure un commento qua sotto, se sapete qualcosa in più riguardo a questo manga. E quindi questo era Yino per Boku Secret Service, edito alla Star Comics al prezzo di 4,30€. Ultimo volume che mi vado a far vedere è una novità della Star Comics che ho apprezzato molto. Avevo già fatto vedere nell'altro video acquisti il giardino delle parole dei disegni di Makoto Shinkai, e quindi la Star Comics continua a pubblicare alcune opere della Makoto Shinkai. E in questo caso, in questo mese, hanno pubblicato il primo volume di 5 cm al secondo. A chain of short stories about the distance. Un manga che è composto da due volumi, solo una miniserie in due volumi, invece il giardino delle parole era un volume unico. e il prossimo, non so ancora che cosa sarà, mi sembra che il volume numero 2 di 5 cm al secondo esca il 19 di agosto. Sì, mi sembra di sì. E anche questo è un volume veramente fantastico. All'interno troviamo sempre quattro pagine a colori, ed è dotato di una sovracopertina. Vedete, è diversa dalla copertina iniziale e queste sono le pagine a colori. Questa è la pagina numero 1, la pagina numero 2, a mio parere la più bella, e la pagina numero 4. E la storia all'interno, una storia che dura, un amore che dura 15 anni, fino a 15 anni, la storia di una preadolescenza, l'amore veramente forte, oltre all'amicizia che è l'amore, che lega questi due protagonisti, che alla fine riusciranno a ritrovarsi. Che ho apprezzato veramente tanto. Ora mi guarderò poi anche il DVD, perché è stato tratto proprio dal DVD, 5 cm al secondo, e vedrò se riprende fedelmente, il manga prende fedelmente l'anime. Quindi vi farò sapere. E questo lo trovate, edito dalla Star Comics, al prezzo di 5,90€. Poi passerei alle tre novità che vi volevo far sapere della Goen. Purtroppo è in ritardo Alice's Academy, volume numero 16, quindi vedremo quando uscirà. Però nel frattempo mi sono presa tre novità della Goen. Sto parlando di Come farti di retiamo, Serie Produce, Un diavolo a scuola, e Akuma Zelma di Asato Mifune. Ora ve li spiegherò tutti nel dettaglio. Allora inizierei come Come farti di retiamo, che è eredito da la Goen a prezzo di 4,50€, però lo potete trovare in fumetteria a un cut price, 3,95€. E' stupendo, è uno shoujo con quattro storie autoconclusive. Infatti dice, ma cosa succede quando Nanoka, campionessa, nel conquistare ragazzi, incontra il presidente del club di cucina? Per voi, con la raccolta delle opere migliore della maestra Masami Nagata. Una mangaka che apprezzo molto, anche per i disegni. sono quattro storie autoconclusive che ho apprezzato veramente tanto. La prima è questa qui di Nanoka campionessa nel conquistare ragazzi che incontra il presidente del club di cucina. E vedremo che riuscirà a cambiarla. E questa è stata una tra le mie preferite. Poi questa è un'altra. Ci sono quattro storie conclusive, questa è un'altra ancora. E questa è la quarta. Come vedete cambiano i personaggi, quindi lo vedete quello quando cambia una storia da un'altra. Vedete questa è bionda e con l'altra mora. Questa era un'altra. E poi più quella iniziale. È un manga veramente stupendo. È dotato di una sovracopertina con le immagini qui a colori come la copertina qui all'interno. e poi l'edizione mi piace veramente tanto. Vedete si apre senza scricchiolare. Poi le pagine sono molto resistenti e non perdono colore, cosa che ho apprezzato molto anche in questo fatto. E quindi questo penso che ci farò poi una piccola recensione come fatti dire ti amo della mangaka Masami Nagata. Poi sempre uno shoujo che ho preso che questo era di Talagona al prezzo di 4,95. È uno shoujo young fantasy come vedete qua su in cima. ed è una storia veramente particolare oltre ai disegni che in questo caso sono veramente stupendi. Ah, come farti dire ti amo sarà composta da 9 volumi mentre questa che vi vado a mostrare e quest'altro saranno una mini serie di composta da 2 volumi. Shina è una liceale soprannominata Dea della distruzione poiché tutto ciò che tocca finisce per rompersi e un giorno mentre va a scuola un ragazzo in kimono le si dichiara da oggi tu appartieni a me. Dice di essere lo spirito specchio d'acqua sceso dal cielo sulla terra per diventare un dio e così comincia l'emozionante convivenza dello spirito presuntuoso della Dea della distruzione. Quindi potete capire dalla trama è un shoujo con un'ambientazione molto particolare poi i disegni sono veramente qualcosa di unico. In questo caso però di questo volume non c'era cap price invece nel prossimo che vi rifaccio vedere hanno fatto un prezzo speciale. Vedete i disegni sono veramente molto belli poi questa storia su molto particolare molto fantasy io l'ho apprezzata veramente tanto. E quindi questo serie produce il diavolo a scuola. Ultimo fumetto della Goen e ultimo che vi vado a mostrare sto parlando di Akuma Zelma di Asato Mifune un seinen perché è un seinen young adult col genere fantasy invece quelli di prima erano tutte e due shoujo questo è un seinen anche questo sarà una miniserie composta da due volumi è un seinen molto particolare con ambientazione come potete vedere gotica all'interno i disegni infatti sono veramente spettacolari a mio cariere questo tono sul gotico che ho apprezzato veramente tanto e poi la storia tra demoni molto simile a quelli altri tipi di manga che ho incontrato molto diversa dai toni mi è piaciuto molto questo contrasto tra demoni e gotico questa abiettazione gotica all'interno e questo qui infatti è edito da la Goen il prezzo doveva essere di 5 euro 95 invece me l'hanno il cut price potete trovare in fumettia il prezzo di 5 euro 50 ho apprezzato molto questo fatto della Goen che ha ridotto i prezzi soprattutto per il primo ha ridotto parecchio il prezzo perché veniva 4 euro 50 e poi ce l'ho pagato 3 euro 95 quindi ho apprezzato veramente tanto Shona Maruse è un normale adolescenza che vive in un complesso residenziale nella cittadina Omasho un giorno sabato il gatto della sua amica di infanzia Anzomi sparisce cercando sabato il nome del gatto incontra un ragazzo misterioso che dice di chiamarsi Zelma e di essere un demone dal genio creativo di Esato Mifune arriva la sensazionale storia che unisce demoni e vita quotidiana quindi come potete già capire dalla storia è veramente particolare e si legge veramente bene è una storia veramente piacevole e poi veramente con questi disegni sul stile gotico colpisce il lettore tantissimo quindi datene la possibilità perché anche insieme a questo che vi ho fatto vedere prima sarà una miniserie solo composta da due volumi quindi vedrò di prendere anche il secondo volume perché sono molto curiosa di vedere come l'hanno realizzato bene detto questo questi erano i miei acquisti manga nel mese di luglio fatemi sapere anche voi che cosa avete acquistato in questo mese con un commento qua sotto anche con un video e con questo ci vediamo al prossimo video ciao